A lavoro dalla mamma con la tata, finalmente il mio sogno è, si è coronato, portare il bambino in ufficio per sempre. Salutiamo! E le mie colleghe con mio vento hanno interrotto un po' ogni funzionalità, ecco perché c'è un evento straordinario. Ecco la mostruzione della mamma con il fantastico Nicolo. Che gioca con un giochino meraviglioso. Ah, ha trovato pane per i cedenti. A questo giochiamo, io ti dico, telefono, porca miseria, mi suona il telefono. Ti suoni, arrivo in giubito. Occolo qui, veni qua. Veni qua. Corri, corri, corri. Corri, 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 corri. Ritorno!